Prima in giù, tutto l'altro verso il su. Prima da lontano. Prima verso giù. Niente frizione, niente gas, freno a sinistra. Per cambiare tiri solo sul piede un po' di acceleratore potete entrare a marcia. Quindi allora regimi la prima, giù, e le altre verso l'interno. Cattiferia eh. Allora piedi. Dai. 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 Fermo. Dio boe sta fermo. Guarda già c'è. Ok. Vai. Aspetta che prenda un po' di velocità. Ok. 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 Punto. Vai. Vai. Ok. 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 Grazie. 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 Quando scopri uno? E fuori oh, va troppo sta roba qua. Vedete, si piene lì, per andare fuori. E mi son cagato duro due volte, eh. Ti ho visto ho preso bene, l'ultima curva e la side lì. Sì, Gabriele, io ti ho mangiato tutto il turno. Allora, cosa dici?